Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo secondo episodio appunto per quanto riguarda questa nuova guida che sto facendo all'introduzione nel mondo delle criptovalute. Oggi, come ho spiegato anche e come già accennato nel video precedente, andremo a parlare della criptovaluta DAI. Perché andremo a parlare di questa criptovaluta? Perché comunque sia nel video precedente abbiamo parlato di stablecoin e DAI è una delle criptovalute più, diciamo, innovative per quello che riguarda il processo delle stablecoin. Ovviamente in questo video non parleremo soltanto di questa criptovaluta specifica, ma faremo un overview più che altro su tutte quante quelle che sono le altre stablecoin e poi spiegheremo il perché effettivamente DAI è la criptovaluta più innovativa rispetto alle altre. Come sempre però, prima di poter iniziare questo video vi chiedo di potervi iscrivervi al canale, mettere un bel like a questo video se ovviamente vi dovesse interessare per aiutarmi a raggiungere le persone possibili e di commentare qui sotto con il prossimo argomento che vorreste vedere appunto qui sul canale. Partiamo subito! Intanto ricordiamo che alle stablecoin il fatto di essere ancorate al prezzo di un bene sottostante come potrebbe essere il dollaro americano o l'oro ne riduce la loro volatilità e rende lo strumento perfetto per quei trader che vogliono, diciamo, parcheggiare la propria liquidità nelle fasi di contrazione di mercato. Allora, prima di arrivare comunque sia a parlare di appunto questa criptovaluta DAI andremo a parlare anche di Tether USDT, la stablecoin più capitalizzata, andremo a parlare poi di USD Coin che sarebbe la stablecoin di Goldman Sachs e poi andremo a parlare di Stasis EURS, ovvero la stablecoin europea e anche di Pax Gold. E dopodiché vedremo effettivamente la criptovaluta DAI. Tra l'altro io mi auguro di star dire bene, anzi di pronunciare bene comunque sia il nome di questa criptovaluta, se lo pronuncio male mi dispiace, vi chiedo scusa in anticipo. Allora, parliamo un attimino di Tether. Tether già nel lontano 2012 venne pubblicato il primo white paper appunto di Realcoin, una valuta che sfruttando il protocollo blockchain di Bitcoin avrebbe replicato l'andamento di un certo asset. Negli anni però il progetto proseguì cambiando nome appunto nel noto Tether di oggi e legandosi a valute differenti quali il dollaro, l'euro e lo yen. Era il 2015 quando iniziò a diffondersi i suoi principali exchange online. Oggi Tether è stabilmente terza nella classifica di CoinMarketCap con oltre 9 miliardi di dollari di capitalizzazione e volumi che superano in media i 20 miliardi di dollari al giorno. Si tratta di uno dei progetti dell'universo cripto che hanno negli ultimi mesi ottenuto il maggior successo. Essendo molto utilizzato sia dagli investitori più navigati che lo usano per poter passare appunto dalla criptovaluta all'altra in momenti di alta tensione, quindi nel momento in cui c'è la contrazione di mercato, e dagli exchange stessi. Alcuni exchange infatti utilizzano Tether al posto del dollaro nella gestione dei conti e negli scambi con altre piattaforme per poter integrare la mancanza tecnologica e regolamentare in questo modo dalle banche. In quanto Tether è facilmente riscattabile in dollari ed evita a questi exchange di dover avere conti in dollaro. Andiamo a vedere invece adesso che cos'è appunto USD Coin, ovvero la stablecoin di Goldman Sachs. A maggio del 2018 la società Circle, una startup appunto di Goldman Sachs, ha lanciato il progetto USD Coin. Per la prima volta una grande istituzione finanziaria ha investito nel settore delle criptovalute, promuovendo un token basato su una architettura open source, che permetta di poter partecipare in maniera attiva come gli sviluppatori, ma che al tempo stesso sia stabile rispetto al dollaro. Da prima scambiata nell'exchange di Polenix, in pochi mesi è stato accolto dalla maggior parte di tutti quanti gli altri exchange. USD Coin è uno fra i tantissimi token ERC20 presenti sul mercato, ossia valute digitali basate sul network di Ethereum, e che seguono degli standard ben precisi e noti agli sviluppatori. Da alcune settimane però USDC, ovvero USD Coin, è strettamente legata a MakerDAO, ovvero USDC infatti è unita a Ether e Basic Attention Token, come forme di garanzia accettate per aprire value e generare DAI. La mossa è arrivata dopo una lunga discussione nella comunità di Maker, riguardo appunto l'aggiunta di USDC, e i parametri di rischio appropriati per il token e sul potenziale impatto dell'aggiunta di una stablecoin centralizzata come tipo di garanzia. Alla fine però la comunità ha deciso comunque di aggiungere USDC, che potrebbe appunto risolvere l'instabilità dei prezzi di DAI, e i problemi di rigurità riscontrati sin dal crollo del mercato di Ether. Stasis Euro, la criptovaluta europea. Come abbiamo visto le principali stablecoin sono ancorate al dollaro americano, per cercare di rispondere alle esigenze degli investiti europei però, che erano alla ricerca di un prodotto che replicasse appunto l'euro, nel 2018 viene lanciato il progetto EURS da parte di Stasis. Il token EURS infatti è basato sulla standard simplification HAPE20 di Ethereum, è la prima stablecoin supportata uno a uno dall'euro, con soldi di riserva verificati. Inoltre EURS è la prima criptovaluta che rilascia il più avanzato processo di verifica, infatti il third level, ovvero il terzo livello di asset verification, ovvero le verifiche settimanali combinate con digrazioni quotidiane dei forniti di rigurità, garantiscono una totale trasparenza continua senza precedenti alle riserve degli asset. Andiamo adesso alla criptovaluta PAX Gold. PAX Gold è un'altra stablecoin d'oro. La stablecoin non sono necessariamente ancorate appunto alle vode fiat, quale è il dollaro e l'euro, ma sono ancorate anche al valore dell'oro. PAX Gold appunto è ancorata al valore dell'oro. Esistono infatti stablecoin che replicano il prezzo ad esempio come quello dell'oro. In questi mesi l'interesse verso l'oro infatti è elevatissimo, il progetto di PAX Gold lo rende accessibile a tutti. La qualità dell'oro è certificata dalla London Ballion Market Association e London Good Delivery. Nella capitale britannica sono conservati in cavo ovviamente di massima sicurezza i lingotti di circa 400.000 onci ognuno, puri almeno al 99,5%, ognuno con numero seriale ed irrativo peso. È sempre possibile convertire PAX Gold in oro o in dollari o viceversa, poiché è possibile acquistare una frazione ordinaria di lingotti al fine di garantire la minor dispersione possibile. PAX Host cerca di riallocare in una stessa barra le diverse frazioni per ogni indirizzo degli acquirenti. La tecnologia blockchain utilizzata è ancora una volta quella di Ethereum appunto come ho detto prima, con protocolli di tipo ERC20, precedentemente introdotti rivendicando così la natura decentralizzata ed automatizzata degli smart contract. Tra l'altro smart contract, questi vedete tanto escono tantissimi nomi poi sempre anche in questi video, sarà un video ovviamente a parte che faremo e cui spiegheremo bene che cosa sono e che cosa fanno. Passiamo adesso finalmente alla criptovaluta DAI, che ripeto spero di pronunciare bene, la stablecoin innovativa. Perché però è definita la stablecoin innovativa? Andiamo a vedere. DAI, un token anche questo qua basato su Ethereum ERC20, introdotto da MakerDAO nel 2017, ed è ancora dal prezzo del dollaro, grazie a un sistema autonomo di smart contracts, appositamente studiati per rispondere alle dinamiche del mercato. Rispetto alle stablecoin di cui abbiamo appena discusso, tutte quante garantite ovviamente da asset tradizionali, DAI è la principale stablecoin garantita da altre criptovalute. Ricordate che nel video precedente abbiamo parlato di tre macrocategorie, ovvero fiat, criptovalute e algoritmi. Bene, DAI fa parte della seconda macro tipologia. Questa differenza porta con sé un grosso vantaggio rispetto alle stablecoin garantite dalle riserve fiat. Innanzitutto non ha bisogno di controlli o audit da parte delle istituzioni tradizionali, il che la rende quasi completamente decentralizzata. Le sue riserve di criptovalute sono intrinsicamente garantite da un sistema che di per sé è trasparente e tracciabile, in quanto basato sulla blockchain. Anche qui faremo un altro video approfondimento su che cos'è la blockchain, perché comunque sia ne abbiamo parlato tantissime volte ma non l'ho mai spiegato bene. Il secondo punto a favore di DAI rispetto alle stablecoin presentate è appunto la decentralizzazione, infatti come ho detto prima è decentralizzato. Invece che dipende da una struttura centralizzata tipica degli asset tradizionali, infatti DAI garantita un asset a loro volta decentralizzato. Il protocollo Maker che regola DAI è stato progettato e lanciato da Maker Foundation insieme a una serie di partner esterni. Al momento sta collaborando con la community di MakerDAO per far crescere la governance decentralizzata del progetto e condurla in questo modo verso una decentralizzazione completa. Per questi e per altri motivi ovviamente DAI è uno dei progetti più interessanti all'interno del panorama del blockchain e una delle colonne portanti della DeFi, finanza decentralizzata, altro argomento che ovviamente parleremo e introdurremo in questi video. E ha come obiettivo la trasformazione degli attuali prodotti finanziari in protocolli sicuri e trasparenti che operano ovviamente senza intermediari. Questo fondamentalmente è quello che è DAI. Ovviamente però non finisce qui quando parliamo di DAI. Infatti andiamo a parlare un attimo perché effettivamente questa criptovaluta è veramente innovativa. Diciamo che il principale problema appunto delle stable coin come Tether, USD Coin e tutte quante le altre è rappresentato dalla mancanza di una vera e propria forma di decentralizzazione. Infatti sono legate alla centralizzazione delle monete fiat. Se è vero infatti che le transazioni avvengono in maniera veloce, in maniera condivisa, con bassi costi di transazioni, è altrettanto vero però che gli utenti affidano i loro asset collaterali ad un'azienda. Una nuova autorità centrale. Questo non solo potrebbe presentare dei rischi, ma va contro la filosofia cardine delle criptovalute di un mondo libero e da un potere finanziario decentralizzato. Inoltre, tali soluzioni, per quanto funzionali e a congelare i propri risparmi, non permetteranno mai il passaggio ad una nuova economia, dal momento che il dollaro, o anche l'euro, ma anche l'oro, sono asset tradizionali che fungono da ancoraggio a queste stablecoin. DAI è un progetto di MakerDAO. MakerDAO che cos'è? Nasce in questo clima di forte opposizione. Si tratta di un progetto sviluppato a partire dal 2015, che ha subito nel tempo diverse innovazioni. Il primo white paper infatti venne pubblicato nel 2017, introducendo la stablecoin DAI System. Nel novembre del 2019 il protocollo Maker si evolve, presentando le caratteristiche attualmente in vigore nella multicollateral DAI. La valuta però del progetto, e appunto DAI e il legame mantenuto con il dollaro, rimane sempre 1 a 1. Nella prima fase di Maker, l'unico asset accettato per ottenere DAI era ETHER. Dunque DAI era single collateral, ovvero solo un asset garantito. Nel multicollateral però si sono aggiunte anche criptovalute basic come SAI, come USD Coin, come Rapid Bitcoin e un token di RC20, che punta appunto a uno scambio più veloce di liquidità Bitcoin sulla blockchain di Ethereum. Ciò rende MakerDAO molto interessante, non tanto appunto per la tecnologia utilizzata per effettuare gli scambi, ma per il meccanismo di gestione della stabilità costruita ad hoc per gestire tutte le potenzialità e difficoltà legate al mondo delle criptovalute. DAI è un oltre un progetto che sta riscontrando moltissimo successo e che sta trovando una crescente applicazione in diversi settori, ponendosi così al centro della DeFi, finanza decentralizzata. Infatti parliamo di DeFi, della finanza decentralizzata insieme a DAI. Questo nuovo tipo di finanza ha come obiettivo quello di rendere facilmente accessibili tutti i servizi finanziari come prestiti, trading, risparmi e assicurazioni. Rispetto alla finanza tradizionale, la DeFi consente di gestire tutti questi servizi senza intermediari, offrendo una maggiore trasparenza, efficienza, rapidità e minori costi. Per esempio il notaio o qualsiasi altro tipo anche la stessa banca non sono più necessari grazie alla DeFi. I grandi cambiamenti portano con sé sfide e rischi e la finanza decentralizzata non ne è esente. Nello specifico, le principali sfide che la DeFi dovrà affrontare sono rappresentate dalla scarsa liquidità che può rendere difficoltose le transazioni, dal dialogo con le istituzioni e gli enti governativi e dalla scarsa comprensione da parte di un audience un pochettino mainstream. I principali rischi sono associati ad una mancanza di regolamentazione del settore, alla totale indipendenza da parte dell'utente nella gestione del proprio denaro digitale e a potenziali bug ed errori che potrebbero essere rimasti comunque sia nei protocolli degli smart contract. DAI non solo sta affrontando queste sfide comunque sia con grande successo, ma sta portando i suoi servizi e i suoi valori in luoghi dove la DeFi per adesso può avere un impatto significativo sulla vita quotidiana. Infatti quali sono i casi di utilizzo di DAI? Thailandia e Myanmar. La crescita economica e la carenza di manodopera in Thailandia sono stati fattori di attrazione e opportunità per i lavoratori dei paesi vicini. Uno di questi è appunto il Myanmar, la cui problematica politica ed economica spingono la popolazione a cercare una vita migliore all'estero. Da decenni ormai gli abitanti del Myanmar, soprattutto quelli più vicini attraversando il confine, per cercare lavoro in Thailandia. Questa situazione però, che accomuna migliaia di persone da ormai moltissimo tempo, ha creato una domanda di servizi cross-border significativa. Così MakerDAO interviene in partnership con Everex, il servizio attraverso cui è possibile ritirare, depositare e mandare e ricevere DAI, direttamente sul conto bancario in USD, Euro e Thai Baht. Grazie a questo progetto, lavoratori provenienti dal Myanmar, dislocati in Thailandia, possono mandare denaro alle loro famiglie in modo economico e veloce, evitando le usuali commissioni generalmente molto alte. Altri tipi di utilizzo sono ad esempio l'Argentina e il Venezuela, sempre con sistemi simili. Ad esempio in Argentina e il Venezuela che cosa succede? In Argentina e il Venezuela la moneta ufficiale è sempre più debole, a causa di una forte inflazione. È la stessa cosa di cui parlavamo la volta precedente per quanto riguarda appunto El Salvador, per cui ha diciamo adottato Bitcoin come moneta ufficiale. Per questo molti latino-americani cercano di ottenere e mettere da parte dollari americani. I governi tuttavia regolano l'accesso al dollaro con controlli sui capitali. In Argentina ad esempio i cittadini possono acquistare un massimo di 200 dollari al mese, non di più. I controlli sul capitale hanno paradossalmente danneggiato ancora di più la vita locale. Il messaggio che mandano queste misure di controllo è che nemmeno i governi credono nella propria moneta, dunque la fiducia su cui si basa tutto il sistema monetario crolla. In questa situazione DAI è diventata una popolare riserva di valore, almeno per i privati che conservano in questo modo i loro risparmi, e poi li convertono appunto nella valuta locale quando ne hanno bisogno. DAI non è ancora molto utilizzata per gli acquisti quotidiani, perché i commercianti di solito infatti non l'accettano, ma in Venezuela è nato un progetto anche per risolvere questo problema. L'azienda PundiX, con sede a Singapore nel 2019, ha annunciato Traki, la più grande catena di grandi magazzini del Venezuela, sarebbe la prima catena di negozi a implementare XPOS, il POS per la blockchain, in tutti e 49 punti vendita del paese. Questa qua comunque sia ragazzi è proprio una innovazione grandissima, perché se ci pensate ad oggi neanche qui in Europa, neanche in America, neanche in Cina, sono ancora diciamo attivi questi appunto XPOS per ricevere pagamenti dalla blockchain, come appunto con cripto, come queste qua, e il fatto che in paesi così poveri, dove appunto la moneta è talmente tanto iperinflazionata, stiano già agendo, è molto positivo. Ragazzi, il video è abbastanza lungo, lo capisco bene, però è un approfondimento necessario per poter capire a fondo che cosa fosse questa criptomoneta, e perché effettivamente le stablecoin potrebbero un domani essere molto ma molto più usate in paesi appunto poveri come Venezuela, come l'Argentina, come la Thailandia, come il Myanmar, perché la loro moneta effettivamente è diventata carta straccia, proprio praticamente il nulla. Io vi ringrazio come sempre di aver visto il video fino alla fine, fatemi sapere sempre sotto nei commenti il prossimo video che potrebbe interessarvi, che vorreste vedere, mettete un bel like a questo video se vi dovesse piacere, e iscrivetevi al canale, e noi come sempre ci vediamo in un prossimo video. See you later, ciao ciao!